E' una notizia che ha lasciato tutti senza parole quella piombata ieri sui lavoratori della Johnson Controls di Corropoli, la cui proprietà ha comunicato ai sindacati e rappresentanze sindacali la decisione di chiudere le attività produttive dello stabilimento, che produce sistemi di sicurezza e antincendio, condannando di fatto al licenziamento di 60 persone. Questo per spostare le produzioni negli stabilimenti messicani, tedeschi e della Repubblica cieca. Per questo motivo è iniziata la protesta con un'assemblea davanti ai cancelli contro la multinazionale americana. Sì, noi avevamo l'incontro calendarizzato per parlare della proroga del contratto di solidarietà. Qui siamo in solidarietà da due anni e mezzo, in attesa di codici che avevano un ritardo e che comunque ci avevano detto l'ultimo incontro esattamente dieci giorni fa, che sarebbe arrivato tra gennaio e dicembre. Una situazione, uno stabilimento certamente un po' scarico, ma stavamo in attesa appunto di avere delle risposte e di avere degli incrementi produttivi. Avevamo richiesto noi un incontro con la multinazionale per sapere appunto che cosa sarebbe accaduto alla fine dell'ammortizzatore sociale, che sarebbe scaduto tra sei mesi, perché abbiamo un residuo di sei mesi. Ieri invece con una freddezza disarmante il vicepresidente della multinazionale Mike Audsan ci ha comunicato che verranno chiuse le produzioni, per cui qui 60 persone rischiano da lunedì di stare a casa. 60 lavoratrici e lavoratori che hanno veramente fatto grandi sacrifici per questa azienda, un'azienda che sta qui oramai da 40 anni e che adesso purtroppo rischia di diventare una bomba sociale per questo territorio. E la seconda multinazionale, terza oramai se consideriamo pure la Purem, che ci comunica e vuole uscire da questo territorio. Cioè è evidente che bisogna iniziare a fare qualcosa. Secondo i sindacati la totale mancanza di una strategia industriale sta portando all'ennesima decisione sbagliata sul territorio terramano, a discapito di lavoratrici e lavoratori sempre più delusi e arrabbiati e stanchi della doppia faccia delle multinazionali. Ci ritroviamo in una situazione in cui 60 persone con relative famiglie non sanno che cosa faranno da adesso a sei mesi, con tutto ciò che ne consegue. Carichi familiari, persone vicine al pensionamento, persone con disabilità, cambiamo anche queste all'interno di queste 60 persone. Stiamo aspettando che la multinazionale ci faccia sapere come intende procedere a questo piano scellerato. Noi siamo traumatizzati, anche se nel corso degli ultimi anni purtroppo abbiamo visto un continuo depoporamento delle capacità produttive del nostro stabilimento per via dei non investimenti che venivano fatti in altre sedi e non nel nostro stabilimento. Sulla questione l'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale ha convocato per lunedì 16 a Pescara un tavolo di crisi.